Wella ragazzi, ciao a tutti la Nick, bentornati qui su Farming Simulator 22 nella mappa Gold Crest Valley Come sempre ragazzi, prima di cominciare questo gameplay vi vado a ricordare che in descrizione ci potete trovare un link che vi permette di comprare questi e tanti altri giochi scontati In descrizione ci trovate anche la lista dei miei social e se vi iscrivete al canale ricordatevi di attivare la campanellina così ricevete una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale Allora, pian pianino cerco di riportare su il mio camion Che qua sopra noi abbiamo gli alberi, pian pianino da tagliare Per ora abbiamo giusto questa fabbrica dei pallet Che oltre ai pallet fa pure i mobili Quindi diciamo che è una carpenteria alla fine È una carpenteria che fa i pallet Anche se al momento non ho messo nessuna mod che usa questi pallet E vabbè, però Beh, li possiamo comunque vendere questi pallet, non è che è un problema Allora, dunque ho già seminato i terreni 16, 14 e 15 Mi manca da seminare questo E mi manca da seminare il 10 Ma li volevo seminare con qualcosa di diverso E mo, diciamo, non è periodo per seminare qualcosa di diverso dal frumento e l'orzo Volevo seminare qualcosa tipo Patate, barbabietole Perché mo vi spiego Ho messo una mod che mi fa il cibo per i suini Perché comunque i suini li voglio prendere Però l'unico problema dei suini È che mangiano tanto E il problema è riuscire a trovare una mod che mi faccia Parecchio cibo a costo contenuto Ora, io ho messo una mod che ho trovato nel mod hub E vediamo adesso questa mod cosa richiede E la quantità che richiede Diciamo che Vediamo com'è Se vedo che richiede troppe risorse In caso me la modifico e abbasso un po' i requisiti Perché sinceramente su farming i cavalli e i suini mangiano tanto E salgono di valore molto lentamente Quindi volevo un pochettino Fa qualcosa al riguardo Perché se no non li tratto mai i suini e soprattutto i cavalli Ma anche comunque Anche le vacche comunque non scherzano affatto Perché tipo abbiamo comprato le Angus Un bel po' di tempo fa le abbiamo comprate le Angus E ancora Ancora stanno lì in fase di riproduzione Cioè Un botto Ma un botto di tempo per maturare Veramente tanto E il guadagno proprio non si vede mai Perché gli do solo da mangiare Invece quelle da latte Le vacche da latte mi trovo meglio Perché praticamente Il latte lo vedo in pratica tutti i giorni Diciamo no E quindi già mi trovo un po' meglio Si guadagna in pratica tutti i giorni Con le vacche da latte Mentre con le Angus Che si guadagna solo quando le vendi Ecco si fa un po' di fatica a guadagnare Effettivamente Comunque Vi stavo a dire che ho messo una mod Che ci permette di fare il cibo per I suini Allora andiamo a mettere Non lo so Qui da qualche parte Devo mettere Questa produzione Volendo la potrei mettere anche qua Perché questo terreno è mio E quindi Potrei metterlo qua L'importante è che andiamo a dare una bella livellata Ma con questi soldi non andiamo da nessuna parte Allora costruzione Livellamento E andiamo a livellare Così come è qua L'unica scocciatura ovviamente come sempre Sono gli alberi Quindi stiamo attenti a quelli Eccolo qua Pig food production 45.000 euro E' un po' grandicello Pensavo era più piccolino Cavolo Si sovrappone Si sovrappone con chi? Beh si Prende molto spazio E proprio quell'albero lì dietro E' un po' il mio problema Allora Piazziamo qua Ok L'albero rompe un po' Eh si L'albero è da Da rimuovere Ah oltretutto Da qua ci vado anche a scaricare Quindi Ah che mo' non me lo fa modificare Ah si che me lo fa modificare Ma poco Allora A quanto pare Devo togliere quest'albero E in più Mi sa che ci devo costruire Una strada qua Vernice Asfalto Asfalto Forse è un po' troppo Grande Grande Ok Ok Vediamo un po' Asfalto pure qua Ah ci sono punti dove Mo' non prendi A posto Stranamente qua Non copre Non so il perché Purtroppo ci sono punti dove Non prende Pianta O ci metto qualcosa per coprire qua Ci potrei mettere Vediamo Vernice A sto punto magari qua Non lo so Facciamo così va Visto che non mi fa Piazza Sperando che almeno Questi si Ok Visto che là Non me lo fa coprire Via Vabbè allora va Mi sa che lo devo togliere Manualmente Dunque tagliamo l'alberello L'unica scocciatura È sto coso qua per terra O vado a prendere Noleggio I rimuovi ceppi Anzi lo compriamo direttamente Un rimuovi ceppi Compriamo un rimuovi ceppi Che togliamo sto coso Vediamo un po' Tanto alla fine Mi serve comunque Prima o poi Rimuovi ceppi Bensì Equipaggiamento Silvicoltura Allora Io mi trovo sempre Molto bene Con questo O compro Avanti Ora Devo andarlo a prendere Rimuovi Ah qui abbiamo finito Qui abbiamo finito Di fa Come si chiama Ah non mi ricordo Il nome Vabbè il fieno Insomma Che l'ho anche finito Non ne ho più Perché lo Lo stavo a dare Agli animali Ho finito il fieno Ma ci vuole un bel Ranghinatore E poi Si raccoglie Qua Il fieno Lo mettiamo nel fienile E lo teniamo E lo teniamo da parte Prendiamo il ranghinatore E mo famo una bella Arranghinata Qua Allora Mo qua Una bella Arranghinata Ci vuole Dunque Genera percorso di lavoro Punto più vicino Vai A posto Ragà Così mi fa L'arranghinata Dunque Dove ero rimasto Ah si Devo mandare un trattore A prendere Quello lì Per togliere I cosi I ceppi Quindi vai a negozio Che andiamo a ritirare Che andiamo a ritirare Questo rimuovi i ceppi E comunque Allora Ora che abbiamo comprato Questo edificio Per fare Il cibo Dei suini Andiamo a vedere Quello che ci vuole Per fare il cibo Dei suini Allora Qui in mezzo A tutta questa lista Dovrei beccare La produzione E dove cavolo è Questo è per I maiali E per i suini Dove cavolo è Ci deve essere Per forza A meno che Addio Spero tanto di no A meno che Non ho piazzato L'edificio In un terreno Che non è mio Ah no Eccolo qua Meno male Paura Cibo per suini Richiede 200 di patate 200 di barbabietole E 100 di semi di soia Ok Non lo so Se sia tanto O poco Non lo so Vabbè che patate E barbabietole Se ne fanno A tonnellate Questo è anche vero Semi di soia Vabbè Quelli se ne fanno Di meno E costicchiano pure Non lo so Sinceramente Se così Diciamo Non lo so Non lo so Se è così Diciamo Mi conviene Che ci guadagno Soldi Oppure no Però Allora C'è un piccolo Però Che non piace A molti Però comunque Ne devo parlare Perché ognuno Gioca un po' Come gli pare No Allora Richiede Tre cose Che possiamo Produrre Con la serra Aperta Quindi se voi Mettete la serra Aperta Vedete che È possibile Produrre Semi di soia È possibile Produrre Barbabietole E patate Quindi Per dire Potete anche Produrre cibo Per suini Con una semplice Serra Utilizzando Questa mod Quindi poi Se volete Diciamo Fare in modo Semplificato Potete fare così Se invece Volete seminare Tutto voi Vi seminate Patate Barbabietole E semi di soia E automaticamente Vi fate il cibo Per suini In questo modo Allora Io però Voglio provare Quindi attivo E Vediamo un po' Io qua Stavo a produrre Cotone E semi di soia Ma i semi di soia Che gli stavo a fare Distribuzione Ma perché I semi di soia Dove andavano a finire Poi Ah sì Con i semi di soia Ci stavo a fare Un'altra cosa Ora mi ricordo Con i semi di soia Stavo a fare una cosa Allora Barbabietole Da zucchero È già attivo In distribuzione Allora facciamo Attiva semi di soia Distribuzione Distribuzione E patate Attiva patate Distribuzione Quindi in pratica Io con questa serra Solo con questa serra Adesso vado a produrre Cibo per suini Con solo Con solo questa serra Quindi patate Bababietole E semi di soia E mi fa cibo Per suini Allora Pichiamo questo Tanto alla fine Abbiamo un terreno A alberi Torna in farm Mi sa che un po' Di debito Lo togliamo E dove cavolo vai Ok Ah qui stavo a prendere Poi Liquami Quelli ovviamente Aspetta Liquami Li devo mandare I liquami No Quel macchinario Non accetta Liquami Dai liquami In farm Li devo portare Per fa' E con i liquami Noi ci facciamo Come si chiama Con i liquami Noi fanno Il fertilizzante Solito Ah poi Avevo mandato L'ultimo fieno Che mi è rimasto L'ho mandato qua Scaricamo Ovviamente Col cavolo Che riesco a scaricare Con facilità Ma siccome Mi è rimasto Solo questo Un po' qua Un po' là E ci si accontenta Allora a proposito Andiamo anche Nel secondo Edificio Delle pecore Che qua C'è un pallettino Di lana Che trasformiamo Poi in tessuto E poi in abiti Allora Ho lasciato apposta Questi due terreni Ho lasciato il 10 E quest'altro Apposta Ragà Per farci Barbabietole E patate Perché ovviamente Lo so che A molti Non piace Il fatto Che con la serra Produco patate Barbabietole Semi di soia Quindi ho lasciato Apposta Questi due terreni Così ci mettiamo Queste due cose E il 19 Quanto costa Che magari Ci mettevo E che a dia Verità A comprare Terreni piccoli E proprio inutile Ecco Piuttosto Il 22 Nel 22 Che cosa c'è Di bello Che lo vedo Molto scontato Però non possono Essere questi Semi di soia Questa colza E vabbè I semi di soia Per ora Me li faccio Fa con la serra E che faccio Pio il 22 Vabbè La colza È buona La colza È buona No Più che altro È che Sinceramente Vorrei togliermi Terreni piccoli È che Non me li posso Togliere Al massimo Potrei vendere Il 12 Ma mi sa Che non lo posso Neanche fare Perché ci ho Piazzato Oggetti lì Quindi Neanche il 12 Cioè Tecnicamente Io vorrei Tanto Prima o poi Mi vorrei Liberare Di alcuni Terreni piccoli Ma in realtà Non me ne posso Liberare Perché Da per tutto Ci ho piazzato Qualcosa Il 20 Quanto costa Carissimo 90.000 euro Per il Perché già Questo è Abbastanza Grande E così Nel 22 Non lo so O Pichiamo Tanti soldi Ce li abbiamo Cioè Debiti Me ne posso Fa E Pichiamolo Va Compra Ora vale 74.000 E che c'è Da fertilizzare Qua sopra A voglia Ma di brutto Anche E Allora Aspetta 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 Ok Tu sei Arrivato E te Mi servi Per rimuovere I ceppi Cioè Il ceppo Per ora Ah Comunque Ovviamente Non sto A prendere I suini Adesso Perché Praticamente Se prendo I suini Adesso Comunque Non è che ho Tutto questo Cibo Per suini Quindi per ora È inutile Che prenda Il cibo Per suini Ok Vabbè Qui In teoria Abbiamo abbastanza Spazio Per entrare Anche se Qua il terreno Non è ben Livellato Allora Questo Lo mandiamo Negli alberi L'ho segnato Il terreno Ad alberi Teoricamente Vabbè Mandiamolo Dalle vacche Allora Che tanto È di strada Ma che cacchio Sta a fa Questo Ma do Questo Si fa Mettere Sotto Dal treno Siamo arrivati Giusto In tempo Allora Oh Quindi Quel pochino Che mi avanza Lo do Qui Ancora Non è periodo Di semina Comunque Di barbabietole E patate Mi pare Che per quello Dov'è Patate Barbabietole A marzo Non è ancora A periodo Allora Vediamo la situazione Quindi con questo Abbiamo detto Che ci facciamo Il fertilizzante Che serve Per le serre E quant'altro Andiamo a scaricarlo Andiamo a scaricarlo qua Dovrebbe Scarica liquame Così Così Continuiamo a fare Fertilizzante Che me mancava Da far Ragazzi Non me sto Ricordando più C'era qualcos'altro Mi pare Che dovevo Fa Ma non me ne ricordo Restituiamo Un po' Di debito Uno Due E tre Vediamo un po' Se il cibo Per suini Per ora Niente È troppo presto Ci vorrà Del tempo Prima che inizi A produrlo Tempo che Quella Perché per ora Ho messo solo Una serra A fare questa cosa Soltanto Una serra L'ho messa A A far Barbabietole E patate Perché poi Se no Poi giustamente Qualcuno Mi viene a dire Nicchia Ma così Va a finire Che non semini Mai Barbabietole E patate Quindi Solo una serra Così che Mi fa comunque Un po' Di cibo Comunque Insomma Un po' Di cibo Lo facciamo In modo passivo Diciamo Va Un pochino No Senza esagerare Con una sola serra Un po' Di patate E un po' Di barbabietole Giusto Per avere Quel minimo Di cibo Perché una volta Che piglio I suini Ragà Non voglio diventare Pazzo Che mi manca Il cibo Quindi Se c'è Magari Un minimo E son contento Così almeno Non me finisce Se no poi Impazzisco Mo' Di fatti Aspetta Dunque Mi pare Che lo zucchero Qui L'ho messo In distribuzione Così evitiamo Che me ne appare Dell'altro Mo' Di fatti Farei passare Un paio Di ore In modo tale Che Vediamo Allora Patate Barbabietole Non ce n'è Alla prossima Al prossimo giro Dove Ah no Me lo sta già a fa' Ne fa pure parecchio Oh se metto a piovere Fa' niente Ah ok Semi di soia Barbabietole Patate 1.3 No è partito Ah è partito Un po' Spedito Perché avevamo Già un po' Di semi di soia Un po' Di barbabietole Da parte E allora è partito Un po' Veloce Però Mo' Si vede che Allora questo è cibo Per suini Quindi Abbiamo anche questo Poi da dare Ai futuri suini Una volta che li prendo E di fatti Le patate Le stavo a produrre Anche per questo motivo Per fare in modo passivo Cibo per suini Oh andiamo E che scatole Una gran rottura Poi vabbè Questo zucchero Lo devo consegnare Allora Questo zucchero Poi Lo devo dare Non lo so A qualche fabbrica Mo' Non me ricordo Allora Facciamo passare Un'altra oretta Vediamo Quanto cibo Oh piano Quanto cibo Per suini 1.000 e 3 1.000 e 3 Non me ne ha fatto Di più Non me ne ha fatto Di più Perché Ah il problema Sono le patate A quanto pare Sta a far fatica Con le patate Vabbè raga Con calma Piano piano Va bene Va bene così Ah e poi è normale Sì perché le patate Le sto usando In due cose Diverse Anche questo è vero Perché con le patate Ci sto a fare Anche le patate Lavate E allora Smettiamo di fare Patate lavate Dov'era sta cosa Delle patate lavate Mo' Qua Premi un patate Stop Così mo' In teoria Dovrebbe farmi Soltanto Cibo per suini Allora Per ora Questo Lo metto qua Vabbè Poi il macchinario Che fa Cibo per suini Comunque Non consuma Molti soldi Mi pare che Consuma tipo 24 euro Al mese L'abbiamo pagato 45 mila euro 48 euro Al mese L'unica cosa Che ho dimenticato È se questa mod C'è anche su console Sì Questa mod C'è anche su console Ho letto Playstation 4 Playstation 5 Xbox Quindi Questa Fabbrica Che fa Cibo per suini C'è anche Su console Pig food production Si chiama Se la cercate Nel mod hub Allora Questo Lo mettiamo qua Vabbè Poi Appena compro I suini Magari Nel prossimo Gameplay Togliamo Tutta sta Roba Da qua Ah C'è un altro Ceppo Che devo Togliere Qua E anche Quest'albero Ecco Mo che C'ho la Rimuovi Ceppi Poi lo Posso Fare Almeno Mo che Stai Rimuovi Ceppi Posso Togliere Quei Ceppi Che rompono Che rompono Che rompono Sempre Ok Vi saluto Vi saluto Vi saluto Ci vediamo presto Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.